Azzurra Inmedianza ieri ha presentato in Consiglio Comunale un diversante emendamento. L'emendamento prevede soprattutto le nomine negli enti, ce lo vuoi illustrare e ci vuoi spiegare pure perché alla fine l'opposizione è rimasta amareggiata. Il lavoro prima di tutto è importante sottolineare che è stato un lavoro frutto dell'impegno intellettuale di tutta l'opposizione, davvero delle diverse anime che la compongono, tant'è vero che anche l'intervento in Consiglio Comunale è stato un crescere, nel senso che c'è stato prima un intervento di natura politica da parte del Consigliere Mirra, tecnica da parte mia, per poi dare il là ad una discussione che ha mantenuto davvero finalmente, direi, dei toni più alti che mancavano all'assise cittadina. Questo per dimostrare il carattere che questa opposizione intende avere da oggi in avanti. L'emendamento era che poi alla fine è stato anche frainteso dalla maggioranza, non voleva assolutamente essere un modo per togliere al Sindaco quelle che restavano le sue prerogative di nomina dei rappresentanti del Comune nei diversi edi. Semplicemente abbiamo rivendicato un ruolo fondamentale, importante, a quelli che sono concreti soprattutto, perché le cose possono rimanere a livello di principio, ma bisogna dare poi il là ad una concretezza di quei valori di cui tanto a volte si parla, ma che poi alla fine non si traducano in nulla, che sono quelli della trasparenza, della correttezza, ma di una trasparenza, che soprattutto nei confronti della città, individuare un modo di selezione trasparente, corretto, dei curriculum che arriveranno al Comune è fondamentale anche per la città, che deve, il popolo deve avere sotto mano il modo con cui l'amministrazione intende portare avanti, ma l'amministrazione tutta, l'amministrazione non è solo la maggioranza, è anche e soprattutto l'opposizione che rappresenta comunque in Consiglio Comunale una fetta del popolo. Io ho tenuto da evidenziare che il Consiglio Comunale è il luogo dove avverranno le discussioni, dove gli indirizzi vanno da, la maggioranza non deve sentirsi offesa, perché l'opposizione in quello che è il suo legittimo lavoro, deve, perché voglio dire, queste sono linee di indirizzo, come stesso voglio dire, hanno detto i componenti della maggioranza, del 2016, oggi siamo nel 2021, quindi è giusto, è doveroso che chi rappresenta il popolo deve leggere le carte, deve dare il suo contributo intellettuale, altrimenti lì se ci sediamo nell'assise semplicemente per ratificare quello che è il lavoro fatto e svolto da chi ci ha preceduto è inutile, vuol dire che c'è il voto popolare, che è stato per molti aspetti un voto di protesta, attenzione, perché il fatto che sia stata riconfermata Cecilia Francese come sindaco non sminuisce comunque il dato di protesta dietro i numeri, che va a letto, ma al di là di questo noi abbiamo fatto un emendamento, intendiamo, perché abbiamo voluto dare anche un segnale nuovo, un nuovo metodo, perché questo sarà il metodo con cui questa opposizione affronterà i problemi del Paese, dai più semplici ai più coi, che non esiste una cosa che è più facile, una cosa che è più difficile, va data dignità ad ogni momento di discussione, questo deve essere chiaro perché non ci si può chiudere al riccio, ma sedersi nell'assise e discutere, poi la maggioranza giustamente fa le sue considerazioni, dice sì, dice no, va bene, però il dialogo deve essere chiaro perché confondere le acque, perché in certi momenti mi è sembrato, ma non solo a me, che si spostasse la linea della discussione, non è così, nessuno ha mai voluto togliere prerogativa al sindaco di quello che restava, e resta un rapporto fiduciario, ma fiducia non significa arbitrio, significa valutazione e nomina, e noi nel momento valutativo abbiamo chiesto, a sostegno di un momento ulteriore di pubblicità, gli enti devono essere indicati nel sito, con chiara possibilità, con facile ricerca, vanno individuati i curriculum, vanno pubblicati, perché bisogna sapere chi è che si presenta, come si candida, per dare anche al popolo il momento del riscontro di un'azione amministrativa che dovrà essere improntata a criteri concreti di trasparenza, di pubblicità, di correttezza e di partecipazione.